ciao a tutti ragazzi benvenuti puntata 13 dell'hellerbach la mia serie principale almeno per quanto riguarda me e che mi vede protagonista su questa mappa e come dire contraddistinta la serie da mercedes ovunque e anche lavori forestali come in questo caso ma perché anche oggi siamo qua a fare lavori forestali sapete che non faccio tagli in realtà tutto quello che faccio praticamente lo vedete e mi serve della legna proprio fresca fresca per andare nella segheria che avete visto l'ultimo episodio il time lapse di creazione e modellazione del terreno allora cosa andremo a vedere oggi appunto un po di lavorazioni consone e consuete per me di di forestazione e poi portiamo appunto il tutto alla segheria e vediamo una parte di come si presenta piccolo tour anche se ormai ripeto nel time lapse avete visto tanto ma lo vedremo a piedi proprio un attimino così prima di dire tutto ciò e di partire con i vari discorsi che devo farvene tantissimi oggi perché anche d'altronde per parlare per mezz'ora devo anche dirvi qualcosa vorrei ringraziare subito come sempre gli iscritti e ovviamente gli abbonati l'ultimo arrivato che lo saluto e lo ringrazio è stefano rosci quindi in grande grazie e poi dall'ultima volta ringrazio giuseppe caronia per donazione fatta appunto in live premiere tramite stickers o comunque abbonamento cioè oltre l'abbonamento la parte non so mai come si chiama però la trovate in chat insomma ecco ok quindi grazie perché sostenete appunto me il canale per eventuali miglioramenti e il supporto importante che siete praticamente i miei tra virgolette datori di lavoro insomma perché video degli abbonati la scorsa settimana era un attimo indietro sulla video qui qui video sul canale e comunque anche lì non vi ho abbandonato vi ho portato anche se meno di quello che credevo video degli abbonati invece essendo appunto una cosa doverosa e il tempo l'ho trovato per fare appunto quello e vedete appunto come dire cioè nel video degli abbonati vedono appunto varie cose in più ripeto tante volte magari ho foga di mostrarvi una mod o qualcosa però magari per tempo o non si incastra nelle serie magari non la faccio neanche vedere mentre col video per gli abbonati ho più calma più tempo riesco a far vedere appunto cose in più insomma ecco non me ne vogliate come iscritti lo sapete che porto di tutto e di più però anche abbonati ovviamente hanno quel qualcosa in più giustamente detto questo ragazzi altre cose da dire vabbè gli ultimi video anzi no parentesi siccome qua mi sto muovendo in cabina ve lo dico subito oltre la quick camera che non sto usando in questo momento ho la reversing indoor camera presentata anche quella per far quell'effetto lì di sporgersi in avanti abbassare la testa e guardare in alto e fa anche questa opera qua di uscire dalla porta come 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 euro track per capirsi per chi gioca e quando si sposta il mouse tutto a sinistra uno l'omino praticamente guarda fuori ecco quindi ok e l'altra mod che mi è ormai chiesta ogni ogni commento e che sono nati anche i meme su discord e la vehicle control addon ragazzi quella è la specie di gearbox che utilizzo ok piccolo inciso alcuni alberi sono sul confine dell'altro campo non riesco a tagliarli quindi questo ve lo dico ecco perché alcuni sono rimasti ancora in piedi fortuna loro ma io in qualche maniera risolverò però non vi dico come ecco forse saranno quelle parti micro taglietti che non si vede cosa succede e vado lì e faccio piastra pulita ok poi poi quindi gli ultimi video visti appunto la sigheria qua placebo sulla sta su questa carriera e le terre toscane che ho visto che vi è piaciuto molto mi ha fatto anche piacere e è cresciuta un po' questa voglia di mettermi lì e far qualcosa in più non ero convinto di portare avanti quella serie ma vedo che a tanti di voi appunto piace ovviamente a parte diciamo di vedere qualcosa di italiano io volevo portarvi qualcosa di nuovo di fresco di altre realtà vedo che comunque si vi piace però mi piace di più appunto una parte italica e anche fra l'altro ho fatto volentieri vedendo che appunto sono parte di pubblico ormai sono due anni che giro però magari non seguono non guardano butto fuori in video con fiat e carico le tame allora arrivano bene sono contento spero insomma che piacciono anche gli altri contenuti dopo ovviamente ci mancherebbe non è che tutto quello che faccio deve piacere per forza però è una cosa mi pare più che ovvia però a me sembrava come dire una ripetizione fare una serie italiana ma a questo punto vedo che la porterò avanti come uno spin off normale anche considerando perché vabbè la mappa Italia sapete già che non è una serie è una continua presentazione della mappa di Edo quindi come se la tratto come se fosse una mod anche se appunto è una mappa vabbè una mod allo stesso tempo tantissimi portano appunto l'Italian Rise a questo punto visto che ho come dire editato ovviamente in game la mappa e molti placeable da ottobre che non portavo lo spin off diciamo sono comparsi non vedo perché no insomma adattare un po' la mappa alle mie esigenze e provare insomma ad allenarmi sul discorso anche modellazione terreno se non mi avete chiesto un video tutorial ci sto pensando in realtà non è che ci sia sì c'è da dire diverse cose in realtà vedrò probabilmente ve lo porto intanto penso come come imbastirlo diciamo ecco qua forse non l'ho mai fatto vedere ma con la non mi ricordo mai il nome però vabbè c'è una mod appunto avete visto quell'allone arancione a delivery mod qualcosa che vuol dire appunto consegna e consegna attrezzatura nel posto che volete dopo ovviamente con la combo di comandi mi si apre sempre la season per quello che avevate visto un attimo fa un attimo il discorso animali ma vabbè perché mi sono fatto tra virgolette spedire qua senza andare al negozio apposta ovviamente è con sovrapprezzo poi ho qua anche dei soldi che appena mi fermo un attimo li tiro via perché non sono i miei soldi reali in questo caso derivano da modellazione dello scorso episodio poi me li sistemo perché so quanto avevo prima ho i miei fogli e le mie agendine mi sono fatto mandare appunto la lama per il liber perché è comodo insomma anche imbancare un po' i benedetti tronchi perché se no li trovo dappertutto e dopo quando devo venire qua a raccoglierli devo spostarmi 50.000 volte farebbero comodo delle pinze le ho avute sull'off Bergman ma anche lì visto che vi è piaciuto che l'ho detto sulla sulle terre toscane ve lo dico anche qua ho smadonato un po' perché non è che siano pinze proprio forestali sono pinze da demolizione quindi spostare i tronchi con quelle lascia il tempo che trova ma vabbè anche questo ve l'ho detto altre cose da dire vabbè video futuri ovviamente porterò altre serie o comunque i soliti spin off anche sulla Gelsberg che ho ripescato fuori insieme alle terre toscane probabilmente sulla Starovie sulla Slovak Village eccetera ma vi porterò appunto anche qualche upgrade qualche update anzi scusate di mod già viste in parte l'hanno visto gli abbonati in parte in parte no vedrete insomma voi state sempre sintonizzati ho sempre in mente di fare un video molto particolare di una cosa che secondo me vi tornerà molto molto utile non voglio neanche spoilerare niente perché voglio essere sicuro quando avrò maniera insomma di poterlo fare eccetera visto che è una cosa non dico complicata però un pelo impegnativa almeno da parte mia di mostrarla ve la porterò e vedrete che mi ringrazierete insomma sono proprio convinto potete come al solito darmi il tempo perché insomma ripeto è nobi in passatempo bellissimo mi piace però ovviamente si vuole il suo tempo sia per fare queste cose visto che non mi sembra di farle mai alla Carlona e quindi per fare una cosa fatta bene che resti insomma anche fra i video necessita di quel pelo di calma e organizzazione ok altre cose da dire vi ricordo sempre adesso non mi ricordo il giorno esatto però ve lo dico sempre anch'io perché rinoltro il post e il messaggio eccetera su Instagram però appunto non ricordando il giorno esatto ma sintonizzatevi iscrivetevi al canale di Lelex che lui col socio RB che saluto chiamano Peppe che vi dà delle lezioni sul modding hanno già fatto due puntate sono lì per fare la terza se non erro adesso non vorrei dire socchezze comunque la cosa interessante e da tenere a mente è iscrivetevi andate a cercare il tutto perché può venirvi utile per chi vuole approcciarsi alle edit per il momento e poi probabilmente anche per chi vuole usare a creare le proprie mod e anche questo era una cosa da dire che mi premeva dire poi scusate se ho la scaletta in mente però magari qualche cosa mi viene in mente prima o dopo però per chi è così gentile e bravo che ascoltare tutto il video anche se le cose sono dette tra virgolette in disordine prima o dopo le sa l'altra cosa da dire è video sempre futuri in questo caso di nuovo miei appunto sono a breve vi mando quello del contest delle foto praticamente il solito video che aspettate e bramate e che vi ringrazio appunto per gli screenshot che mandate vi annuncio anche a voi per quelli che sono su discord lo sanno ma voi probabilmente alcuni no ho intenzione anche di fare sempre all'interno dello screenshot contest un contest a tema ovvero potevate mettere massimo di 5 foto che ne hanno votate quelle votate poi a fine mese appunto raccolte in un unico video eccetera volevo mettere, lasciare il limite a 5 però metterne 3 per quelle che volete quindi non so volete fare la screenshot del vostro lamborghini ok e una così non so particolare mentre erate con qualcos'altro con il john deere eccetera ok 3 foto massime e 2 dedicate a contest a tema quindi devo ancora capire ben cosa dirvi di fare tra virgolette però la mia idea così e vorrei anche nei commenti vostri magari che esprimetevi pure ci mancherebbe in contest a tema la mia idea era appunto non so tipo dire questo mese vorrei che oltre appunto la vostra foto che decisa lì vostre foto decise così random quello che volete voi contest a tema quindi un paio di foto dedicatele a sparo ad esempio l'energreen e quindi poi verrà votato votate le foto migliori e fare un contest all'interno del contest in quel caso vabbè penso che farei solo le 3 migliori però ci devo pensare insomma ragazzi quindi vorrei anche un po' da parte vostra delle idee se avete passione di dirmi non so ma perché se no era appunto non so o a marchio o a mezzo o a lavorazione oppure mi è stato consigliato anche da Lorenzo stagionalità tipo non so adesso si trebbia e allora il contest su qualcosa di reale ditemi anche voi perché sono un po' cioè sono entusiasta dell'idea e alcuni e altri appunto mi hanno detto sì è vero anche per noi va bene però mi manca un attimo il capire bene cosa chiedervi come contest vabbè poi detto questo un altro video che vorrei fare però passa tramite instagram questo era un video x uno spin off su qualcosa e lanciandovi tra virgolette un po' di giorni prima la schedina domande su instagram quella famosa sapete tipo non so chiedetemi qualcosa e uno scrive dentro una frase se avete domande curiosità insomma però questo ve lo anticipo così ma non chiedete adesso o non mi mandate le domande adesso questo tanto per farvi capire se vi potrebbe interessare lo butterò insomma come esperimento nei prossimi video ve lo anticipo anche un attimo di sappiate che più o meno ci sarà anche questo ecco poi 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 dovevo dirvi vabbè il solito discorso quest'oggi è serata live premiere quindi ci sta anche la ricettina oggi vorrei portarvi un dolce che ho fatto diciamo da poco è stato come dire ha visto la luce da poco è una ricetta anche semplice è un dolce appunto senza cottura tra virgolette senza uova quindi ve la sparo lì è una specie di semi freddo con biscotti di fondo e cioccolato quindi bel qualcosa proprio di veramente come dire quasi da diabete a guardarlo no dai allora servo circa 200 grammi di biscotti secchi tipo i digestive non so se avete presente comunque i biscotti che sono proprio biscotto classico vabbè anche gli oro saiba per capirci quindi un biscotto tra virgolette molto semplice e tranquillo poi dovete prendere una barretta da 150 grammi di cioccolato fondente e servo cacao amaro e zucchero in ordine dovrebbe essere 40 e 90 grammi dopo non è che cambia tanto se sono 50 o 80 comunque 40 grammi di cacao amaro e 90 di zucchero potete spezzettare i biscotti e farli a modi briciole ma non troppo piccole dovrebbero essere facendo finta quadratini da un centimetro o due ma meglio un centimetro quindi una sbriciolata come dire molto blanda poi ci buttate giù il cacao amaro e lo zucchero l'unica cosa che va tra virgolette non cotta ma ovviamente si utilizza anche i fornelli è il burro che va sciolto ne va sciolto circa 90 grammi che poi va buttato appunto in questo miscuglio di biscotti cacao e zucchero e viene una mega poltiglia chiamiamola così perché non mi viene un altro termine potete aggiustare un po' se vi pare il caso con uno, due, massimo tre cucchiai di latte questa va messa in una forma insomma per la torta uno può anche non mettere sotto la carta forno ma sarebbe meglio di sì insomma anche lì dire vedete voi potreste anche metterla in una pirofila tanto non va a cotto niente quindi è solo un contenitore va pressata e resa uniforme va lasciata mezz'ora almeno in frigo per riposare poi a bagno maria vi sciogliete i 150 grammi di cioccolato fondente possibilmente e anche lì va 3-4 cucchiai di latte per allungare un po' a bagno maria ovviamente penso sappiate cosa significa però vuol dire la padella con dentro il cioccolato è una padella immersa in acqua in un'altra padella quindi detto così un buon trentin non attaccherà mai cioè non attacca perché è molto difficile invece se lo fate sul gas vivo continuate a mescolare forse vi si attacca anche nella padella però beh detto questo una volta che tirate fuori la prima parte diciamo del fondo così sbriciolato e indurito ci colate tranquillamente sopra il vostro impasto di cioccolato dovete solo stare attenti che non ho detto ma lo dico adesso per concludere il burro andrebbe la prima volta lì per l'impasto quello di biscotti buttato tiepido frisco e anche la parte di cioccolato frisco sul fondo quindi dovete sempre lasciare diciamo raffreddare un po' il tutto la ricetta è molto semplice potete cambiare in qualsiasi maniera più che le dosi l'ingrediente quindi se vi piace un altro tipo di cioccolata o gradazione di fondente non c'è nessun problema e anche come i biscotti uno potrebbe farlo anche con gli oreo ho visto un sacco di ricette di questa tipologia il bello è appunto che non vanno né cotti e non ci sono nuova è molto tranquilla come è questa spero insomma mi sia piaciuta la ricettina anche oggi che va ad aggiungersi alle altre prossima volta vi do una piccola anteprima che mi pare che non ho portata anzi no faremo, spero di ricordarmi dopo di portare quella perché magari cambia pura idea gli spefle che sono molto 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 e molto buoni vabbè detto questo ragazzi vi ricordo due cose al volo vabbè della partnership di Giants quindi se volete ordinare e ringrazio chi l'ha già fatto DLC, Ferneland, Icon o qualsiasi altra cosa della Giants in digital download ho il mio codice partner NICO87 sono i link anche in descrizione poi vi consiglio un consiglio insomma venite pure su Discord a trovarmi, a trovarci e anche seguirmi su Instagram perché poi restate aggiornati su molte cose perché ovviamente sfrutto sia Instagram che YouTube che Discord per informarvi soprattutto Instagram come informazione comunque anche lì avete tutti i link in descrizione metto i banner qua nel video appunto per farvi vedere il nome e il nickname da cercare eccetera devo passare anche al commento i commenti che sono indietro nel senso mancano un po' di commenti della puntata prima ancora però con ordine saluterei e ringrazio gli abbonati con i commenti nell'ultimo video quindi assoluto ringrazio Giuseppe Caronia che è un assoluto numero uno Blue Jeans che ormai è sommelier ufficiale che consigliava un chardonnay Boris Abito che commentava se il biorama ha inteso il paesaggio lì per i vari modellini che facevano chi fa modellismo insomma sa di cosa sto parlando chiedeva appunto hobby o bestemmia perché biorama vabbè Bulldozer Matthew bel lavoro come sempre Nico ti ringrazio e anche Danny Farmer 2610 che gli dispiaceva non essere in premier però comunque poi ho recuperato il video gli è piaciuto tutto quanto il discorso placebo segheria eccetera i commenti dell'altro video che non ho potuto fare perché era un po' di corsa col discorso timelapse eccetera arrivo a farvi un saluto veloce e velocissimo a Samuele Spagnolo Spagnuolo scusami sbaglio sempre Emanuele Remolino Gianluca Bianchi Salvatore Malanga poi c'era anche ok Dennis Moro Tommy671 Mattia San Cassani un doppio commento ok Federico Bana Francesco Dallavia poi poi aspettate che devo leggere fare un po' un lavoro Pietro Marco Thomas Polatto D'Unfarmer Pietro Rizzo Giuseppe 936 Alessandro Bernardo il Guerrero 2.0 D'Unfarmer Theory Fabio Pistelli Lore 05 Andrew Sojan Gianmarco appunto non ricordo anche il cognome adesso però beh non lo spoiler se c'è appunto ed appunto ed Emanuele Croce ok detto questo mi sposto un attimo perché posso raccogliere ancora un po' dei tronchi intanto saluto anche commenti i commentatori del video dell'ultimo giustamente dopo che ho detto abbonati del primo commenti di quello scorso prima perché non ho riuscito a salutarli adesso ovviamente torno sull'ultimo quindi quello del timelapse mi saluto di nuovo Fabio Pistelli e Scarvarg che non capirà però è un ragazzo polacco che vive in Inghilterra che ha un canale anche lui che fa cose abbastanza che non sembrano anche interessanti e ci hanno sentiti insomma sapete che faccio un po' contatti internazionali Nico Mabi Luco 88 Davide Lattanzi Manuele Croce Manuele Remollino Andrea 04 Alessandro Bernardo Salvatore Malanga e poi The New Farmer Pietro Andrea Lore 05 Guerriero 2.0 Giuseppe 936 Alex Expo che saluto che so che è tornato a casa e grazie ragazzi che lo avete salutato insomma è pensato è scritto anche in direct su Instagram per vedere come sta Pietro Rizzo Krab Andrew Sayan Marco Stefano Fioratto Francesco Dallavia e Simone e adesso mi sballerò sempre non mi importa mai se Mattaglia o Mattalia però faceva rima Simone ti prego perdonami mi sballerò sempre non so cosa farci vabbè detto questo ragazzi manca ancora un pochino la chiusura della puntata però intanto mi faccio uno screenshot e un breve tagliettino che fa anche rima anche questo ragazzi eccolo qua detto questo ho risettato un attimo con la solita Easy Development mod l'XML perché a salire e scendere dal veicolo alcuni si ingolfano tra virgolette e i giri continuano a fare oh 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 così ogni volta cacceleri mi dà un fastidio madonna allora ho fatto il taglietto un attimo senza farvi vedere perché sta male anche se ve l'ho già mostrato sicuramente un paio di volte e boh adesso finalmente direte voi e lo dico anch'io direzione Segeria i campi che ho usato non mi ricordo il numero alcuni mi hanno chiesto ma dov'è che l'hai creata vabbè si vede là in fondo e non è neanche distante dal punto vendita perché dopo ho aggiunto appunto un punto vendita ho dovuto mettere il trigger con il posizionabile dove c'è la la zona appunto dove si vendono i tronchi normalmente e serve quel posizionabile perché se no non potete vendere né il palace né le travi imbrappate e quindi è a duplice scopo ecco quindi qua ragazzi siamo già in diritto d'arrivo perché basta appunto scendere dallo stradino qua mettiamo dentro le marce giuste controllo il volante come faceva scherzetti eccoci qua quindi pronti qua è sempre la reverse indoor camera che fa il suo il suo lavoro dall'ultima volta che ho abbassato il filtro dell'aria posso finalmente accurire il vetro davanti e godermi l'aria in faccia finalmente a rizzare come si deve la cabina perché all'interno insomma tra sandali e calfini si è fatto un po' un po' di twin come dicono i professionisti in gergo e niente sì ragazzi queste battute qua posso fare perché sono da solo adesso mi viene in mente anche che tempo tempo fa non volevo far polemiche però mi è stata mossa l'accusa che a parte brutte accuse tipo che sono arrogante o cose del genere ma lasciamo perdere vorrei le prove dimostrazione perché ho sempre scritto in privato a tutti e in pubblico a tutti quindi vorrei capire dove come cosa mi hanno visto questo mio atteggiamento ma vabbè e poi mi è stata mosso un'altra critica meno critica però che tipo ero più simpatico una volta quando ero in multiplayer ragazzi le cose sono cambiate non per colpa mia sono qua da solo e vabbè ci sono i cancelli mi hanno invertito i telecomandi perché schiaccio qua e si apre l'altro però il senso come faccio ad essere mister simpatia se sono da solo in single player non riesco mica a far aprire il cancello comunque direte gran lavoro però dopo non entrare neanche in segheria è così ragazzi neanche posso farmi le battute ridere da solo eccetera quindi questo è il nico prenderlo lasciare da solo ovvio che sembrerò o sono meno simpatico pazienza io sono qua in primis per farmi compagnia e per mostrarvi delle cose serie almeno spero e credo sempre di far ciò ok ovvio che dopo multiplayer c'è la battuta c'è uno che dice una cosa l'altro che fa la spalla e tutto quanto basta vedere il video con Giuliano avete detto anche voi che sembro diverso per forza è un altro ambiente sono qua che me la racconto su da solo penso che se facessi diversamente potrei sembrare anche tra virgolette pazzo non lo so comunque questo era un piccolo inciso che volevo appunto dirvi altro piccolo screen so perché sapete che ci tengo e proseguiamo un'altra cosa che ci tenevo a dirvi si nel timelapse avete visto che ho messo i cancelli attaccatissimi nella strada ci si passava e basta qualcuno appunto me l'ha fatto notare ma l'avevo già sistemato ovviamente il cancello più largo perché è un conto e metterlo giù come timelapse è un conto e poi anche se comunque lo testavo nel mentre è provare a passarci con dei mezzi e vedere che insomma è molto molto a filo e dici anche no vabbè il posto era questo altre zone non c'erano secondo me sull'Ellerbach per sistemare il tutto e quindi bisogna accontentarsi ovviamente non si può passare dentro con un super autotreno lunghissimo oddio forse se se la fa con qualche manovra un po' come dire spettacolo però probabilmente non utilizzerò neanche mai qua su sta mappa autotreni eccetera perché è già un po' piccola di suo e ha senso finire andare avanti appunto col pallfinger qua e con litty runner al massimo un domani si potrebbe pensare forse di non so prendere qualche pons o qualcosa ma anche quello un po' esagerato secondo me su una mappa del genere vedremo qua ragazzi avete visto segheria avviata ufficialmente quindi proprio battezzata e vedete che anche i tronchi appunto una volta che si prendono spariscono il trigger è molto 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 vicino quindi vedete già tac sono spariti vengono presi e presi in consegna insomma il ciclo è che vengono tagliati vengono separata la corteccia e ci sono due tipi di cippato praticamente uno serve se uno mette giù il posizionabile quello che portando appunto la corteccia genera corrente elettrica non si andiamo nei particolari però input corteccia output corrente elettrica quindi soldi orari è ok e poi ovviamente con le assi vengono fatti i pallets no scusate vengono prima fatte delle assi corte e delle travi lunghe travi lunghe vengono brappate nell'edificio di fronte e hanno un discreto guadagno e con delle travi più corte vengono portate nell'edificio qua praticamente a sinistra vengono fatti dei pallets e anch'essi venduti senza problemi ecco scaricare i tronchi con la fisica di farming e con il collision di farming è sempre un po' anche qua seconda volta ve lo dico da smadonnare però così è non so cosa farci ragazzi e niente quindi dai scarico ancora un po' dopo vi faccio vedere un attimino la segheria ripeto l'ho presentata in febbraio marzo febbraio febbraio di quest'anno l'avete vista ripeto nel timelapse ma era un conto adesso con calma abbandoniamo la mia amata epsilon qua che è penso ma ve l'ho già detto la gru migliore per tronchi veramente ecco qua quindi anticipato quello che ho detto prima qua c'è la zona di taglio e l'hanno già scorticato i tronchi passano dentro ci sono varie è un po' semplificata ma non troppo almeno a livello come dire della mod vi fa vedere appunto che le travi lunghe sezione quadra sono qua mentre gli assotti come si dice dialetto sono di fianco e qua vedete i due nastri appunto con i due tipi di cippato e ok quindi ci tenevo veramente a far tutto ciò e adesso l'ho fatto la puntata termina qui vi ringrazio per tutto e di tutto detto questo vi dico fai bravi e ciao alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie per la visione! Grazie per la visione!